Il GS quest'anno ha proprio deciso di rompere i cabasisi, compare una camurria una dietro l'altra e prima il malfunzionamento del sistema d'emergenza, e vabbè chi se ne frega e poi l'anomalia temporanea dell'anabagliante, e vabbè andiamo in officina in officina l'anomalia dell'anabagliante si è risolta da sola, vabbè una roba temporanea facciamo l'aggiornamento per l'SOS, perché probabilmente la questione è che BMW ha cambiato contratto con l'operatore telefonico e quindi bisogna fare un aggiornamento colpifero che il messaggio è scomparso, eccolo ancora qua e chi se ne frega dell'SOS e al prossimo tagliando se ne parla ed ecco che compare un'altra camurria importante in pratica è morto il blocchetto elettrico di sinistra di tutto questo blocchetto, compreso il rotellone, non funziona più niente il tasto menu, il cruise control, le frecce, il clacson, è tutto bloccato e ovviamente non riesco ad eliminare questo messaggio maledetto perché il rotellone non funziona senti ciccio, io adesso ti porto dal dottore ti lascio ricoverato qualche giorno però basta camurria